La scelta giusta comincia dalla scuola dell'obbligo, addirittura da quella dell'infanzia. Dove iscrivere il proprio figlio? Per rispondere alla domanda, il comune di Sondrio, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, ha promosso per giovedì alle 20.30 all'Auditorium Torelli un incontro rivolto ai genitori. Relatori Adriana Lafranconi, ex dirigente scolastico e collaboratrice dell'Università di Bergamo, ed Emanuele Contu dell'Ufficio Scolastico Regionale. Ho chiesto loro di aiutare i genitori in una riflessione proprio appunto sui criteri di scelta che esulino delle indicazioni tecniche che possono essere la pura iscrizione o l'offerta dei nostri tre istituti comprensivi presenti sul territorio, ma anche quello che può essere appunto cercare nella scuola una caratteristica che sia confacente alle caratteristiche e agli stili di apprendimento dei propri figli. A Sondrio l'offerta formativa dell'obbligo si articola nei tre istituti comprensivi, Paesi Orobici, Sondrio Centro e Paesi Retici, caratterizzati da grande fermento, dice Fratta, con forte progettualità e innovazione della metodologia didattica come il coding e le life skills. Non mancano proposte educative differenziate dalla musica allo sport all'ambiente e alle lingue. Il personale di queste scuole è molto motivato ed è molto pronto a offrire quelle che sono le metodologie più adeguate per i diversi stili di apprendimento degli alunni che ospiteranno. Quanto conta orientarsi nella scelta alla scuola del proprio quartiere? Direi che è molto importante a mio parere far vivere il proprio quartiere perché la comunità più vicina alle persone è quella della propria casa quindi secondo me è molto importante partire dalla propria casa, dal proprio condominio e dal proprio quartiere per iniziare a capire e ad avere un ruolo nella propria comunità e credo che un bambino debba capire il suo ruolo e sentirsi parte di una comunità a partire dal proprio quartiere questo è in dubbio e quindi nel limite del possibile sarebbe opportuno far vivere le scuole del proprio quartiere. Nei mesi scorsi ed è stato proteste tra i genitori della scuola media di Via Giannoli la presenza del centro di formazione permanente per adulti frequentato da stranieri. La giunta rassicura Fratta ha già deliberato e i lavori partiranno a breve di realizzare un ingresso distinto e tenere spazi separati.